Buonasera a tutti i telespettatori di TR24, le Teleromagna da Andrea Raggini. Dopo 15 giorni contraddistinti da alta pressione e temperature quasi estive, la situazione meteorologica è cambiata nella giornata di ieri 1 maggio e una prima perturbazione ha raggiunto la nostra regione proprio tra la sera e la notte di ieri e la mattinata di oggi. La situazione meteorologica non cambierà nei prossimi due giorni in Emilia Romagna. La giornata di domani, giovedì 3 maggio in particolare, vedrà nuvolosità diffusa fin dal mattino, alcune schiarite saranno possibili nella prima parte della mattinata sulle basse pianure al confine con Lombardia e Veneto, ma la nuvolosità altrove sarà compatta con precipitazioni in arrivo in Romagna già a metà tarda mattinata che si estenderanno a buona parte della nostra regione nel corso del pomeriggio, quando le piogge saranno diffuse e sparse localmente a carattere di temporale, soprattutto sulle aree centrali a ridosso del nostro Appennino. Per quanto riguarda le temperature, avremo una pressione dei valori massimi su Romagna, invece un aumento netto sulle pianure centro-occidentali. Valori massimi saranno generalmente compresi tra 16 e più 21 gradi. Ventilazioni in aumento sulla costa e in Appennino con mare mosso entro la serata. Per quanto riguarda poi la giornata di venerdì, avremo ancora cieli grigi e precipitazioni sparse localmente diffuse. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini.